Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale su InSport oggi siamo oggi siamo di nuovo con il nostro nutrizionista, l'ultimo video che non mi ricordo se di quanto l'abbiamo spezzato perché non lo so perché li siamo registrati di filo, ormai l'avete capito e abbiamo vi abbiamo lasciato un argomento un po' particolare che era quello dell'acqua ecco l'acqua sì che cosa vuol dire bisogna bere, non bisogna bere, trattieni, ecco facciamo un po' di chiarenza perché è qualcosa che tutti quanti ne fanno un utilizzo perché sennò moriamo molto chiaramente però non sappiamo proprio la base, ok? Sì possiamo dire che l'acqua è fondamentale per la vita in generale, qualsiasi tipo di organismo, cellulare, animale, qualsiasi tipo, quindi non ne va assoluta assolutamente, infatti il digiuno idrico non è assolutamente accessibile per l'acqua massimo di tre giorni, poi dopo è impossibile, la sensazione di senta si fa sentire e l'organismo ne richiede e di conseguenza se non lo assumete dopo i tre giorni si rischia di morire. Anche a livello con danni a livello organico? Sì, assolutamente sì. Questo perché? Perché succede? La risposta è molto semplice perché l'acqua è praticamente responsabile e coinvolta in quasi tutti i processi fisiotici dell'organismo, quindi per esempio regola l'atterizzatura della corporea, un altro esempio dell'acqua che libera l'orbito delle scorie dalle scorie dalle scorie di eccesso, quindi dalle sostanze desiderate, protegge gli organi più sensibili come occhi, come l'orecchio oppure il cervello perché questi ultimi sono formati a contenuti comunque in acqua e quindi idratarsi vuol dire appunto alimentare questo processo. Anche nei processi di respirazione? Anche nei processi di respirazione, assolutamente l'acqua è praticamente ovunque. Noi siamo formati al 60% di acqua di cui poi viene suddivisa in due scompatti, due filotti in intracellulare ed extracellulare. L'intracellulare è l'acqua dove è percorrata proprio appunto nella cellula intracellulare e lì partecipa a qualsiasi tipo di processo in cui la cellula è soggetta. è poi formata da un 50% e poi un 10% extracellulare, quindi diciamo nelle articolazioni, nei denti e così via. Insomma, il 10% una minima parte extracellulare, quindi il 50% parte al formante. Un libero, un vero processo. Diciamo dal punto di vista funzionale come abbiamo detto è importantissimo perché oltre a regolare la terapia corporea, oltre anche a proteggere i vari tipi di organi, protegge anche i tessuti, protegge anche le articolazioni stesse dai traumi della tritura fisica. Prima ho fatto un video mentre ti stavo aspettando, infatti il video sull'articolazione, ho parlato pure dell'articolazione. Lui l'ho descritta dal punto di vista fisico più che anatomico, ecco, da che cosa è costituita, quindi c'è la parte della borsa, la parte delle sparte sinodiane, tendini, legamenti e quant'altro, e poi tutte le nostre, insomma. Trovendo solo per lo specifico però, ecco, adesso le sappiamo. Gli argomenti si combinano tra di loro poi. Sono collegati con le altre, appunto, quindi idratarsi equivale a restare in salute, anche e soprattutto perché l'acqua ha una questione principale, quella dei processi digestivi, cioè aiuta le sostanze responsabili della digestione degli alimenti a compiere il loro lavoro, quindi a renderle più fluidi, a renderle più lineari, omogenee, e quindi, ragazzi, senza acqua veramente è impossibile, è possibile vivere. Ma la domanda che si fanno tutti è quanto bene? Ecco, due litri, due litri, dopo due litri sono fermati, ragazzi, siamo rischiate l'annegamento. Io ho visto gente annegare come una delle bottiglie, perché aveva bevuto due litri e mezzo di acqua, perché, fisso lui, questo neme qua, aveva, insomma, fisso lui di giocarsi, insomma, non so come si dice le vostre infatti, aveva sedia, era d'estate, d'estate, aveva raggiunto due litri, ho detto, ma a me fa sedia. Guarda, rischialo se due litri è annegato, ragazzi, purtroppo. Non si recupera più. Non si recupera più. Ovviamente è ironica la cosa perché si può solamente bere più di due litri, ma soprattutto quando? Soprattutto per chi fa più intersportivo. ovviamente le quantità variano di minimo, però variano comunque dal sedentario allo sportivo. In generale, comunque, il sedentario deve assumerne, appunto, deve prendersi la sua bella bottiglia da due litri e oltre, ecco, è oltre due litri e oltre, per il corretto funzionamento dell'organismo. Per quanto riguarda lo sportivo, poi dipende dal tipo di sport applicato. Ovviamente, se parliamo della pesistica, per esempio, allora l'attova può essere assunta sia prima, sia mentre e sia dopo. Questo perché? Per reintegrare il sudore che noi abbiamo perso, quindi argomento collegato ai micronutrienti del precedente video. Andatelo a ribeccare, praticamente. Assolutamente. Assolutamente. E poi per qualsiasi tipo di funzione fisiologica, ma soprattutto per gli obiettivi che la persona ha. Per esempio, l'acqua fa dimagrire? La risposta è no, ovviamente. L'acqua non fa dimagrire, perché sarebbe molto facile. Ora, io per l'acqua dimagrisco è troppo semplice. Ovviamente l'acqua non apporta chilocalorie. Non apporta chilocalorie, però vale. Sono due o tre o quattro litri al giorno, ma se parliamo fuori chilocalorie. Sì, è praticamente a 10 euro. Non apporta chilocalorie, però possiamo affermare che l'acqua aiuta a dimagrire. Non fa dimagrire, ma aiuta. Perché? Può aumentare il senso di sanzità. La strategia che molti nutrizionisti usano è quella di assumere il futuro. Due bicchieri di acqua prima dell'impasto in modo tale da sentirsi un po' più pianote, un po' più, il senso di sanzità si fa sentire di più e quindi ingerire meno nutrienti. Quindi l'acqua non fa dimagrire, ma aiuta a dimagrire. Volevo un attimo chiedere una cosa, perché io già immaginandolo tu, togli i nutrienti le cose. Attenzione, se noi stiamo facendo un percorso per dimagrire, vuol dire che abbiamo un contenuto calorico, correggimi se sbaglio, abbiamo un contenuto calorico ristretto, comunque modificato rispetto alla norma, a quello che noi siamo abituati, perché bisogna creare questo daily agente. Ok? Se io sono abituato a mangiarmi 300 grammi di pasta a pranzo, ok? E il nutrizionista me ne ha dati tipo 150, perché mi ha dovuto dimezzare, ok? Questo quantitativo, naturalmente 150, 200, loro sono nutrizionisti, sanno quello che dovrò fare. E' normale che io ho fame, allora che faccio? Bello. Ma io i nutrienti comunque li assumo tutti. Assolutamente. E' semplicemente un tappo che serve a me psicologicamente per sentirmi pieno. Ma sulla dieta globale che si va a calcolare a fine giornata, a fine settimana, io avrò aggiunto tutti i carburati che mi servono, tutte le proteine che mi servono, tutti i grassi che mi servono, con annessi e connessi il discorso dei micronutrienti. Quindi ecco, ci tenevo, ti interrotto, ti chiedo scusa, però ci tenevo perché l'utenza di YouTube molte volte è spietata. Quindi se tu non spieghi dettagliatamente, non voglio ripetere perché questi video non sono medici, sono per divulgazione, ok? Quindi di chi dice? Si, tendenzialmente è questo. E' come diceva Giuseppe, un tappo, cioè nel senso più psicologico direttore. Perché se noi assumiamo un quantitativo di acqua, che può essere due bicchieri, magari ben di pieni, prima di ogni pasto, ci dà questo senso di pienezza, che magari ci aiuta a raggiungere l'obiettivo del deficit calorico. Ma nel deficit calorico comunque sono qualcolato il climato e lo strumento nutriente necessario. Quindi l'acqua non fa dipagrire, ma aiuta a dimagrire. Se l'acqua incrementa la massa muscolare e quindi aiuta per l'idopofia, assolutamente sì. Assolutamente sì perché ci sono due processi fondamentali. Il primo processo è per il processi anabolici, per innescare i processi anabolici, occorre bere un quantitativo d'acqua necessario appunto... perché praticamente si innestano i processi anabolici di adicartrofia solo con un organismo perfettamente idratato. E inoltre noi, per incrementare i muscoli, assumiamo una certa partita di proteine, ovviamente non eccessiva, però in base al soggetto solo assumiamo una certa partita di proteine. Inoltre noi dobbiamo assumere acqua perché ci aiuta ad aumentare massa, quindi a fare ipertrofia perché noi assumiamo proteine, ovviamente varie meno soggetto e soggetto, però assumiamo una certa quota di proteine. Di conseguenza le proteine in eccesso, quelle di pettose, come eliminiamo? Tramine l'acqua tramite la pipina. Eh, ovviamente l'urina. Quindi il bere acqua è fondamentale anche per eliminare le scorie di eccesso, quindi i prodotti non funzionanti di scarto, come le proteine e ipertrofia. Quindi l'acqua per questi due motivi è fondamentale anche per aumentare la massa muscolare. Nell'ambito sportivo, sempre dedicato alla pesistica, sia per l'obiettivo del dimagrimento che dell'aumentare massa, è importante l'acqua. Ovviamente se ci fate la domanda, tra l'immo che dire, vi risponderemo sempre di no, se ci fa incrementare la massa muscolare, vi risponderemo di sì, ma ovviamente con dei certi criteri e dei certi parametri. perché dai, io bevo allora divento come Coleman. No, no, questo no, questo no. No, no, no. Beve perché fa bene, perché idrata, perché... Per tutti i processi che dicevamo. Che abbiamo detto prima, perché comunque anche a livello cerebrale comunque ha bisogno di idratazione, quindi la concentrazione su tutti i pesi. E' buono anche negli sport di endurance, perché appunto aiuta a supportare lunghe distanze, per esempio la maratona, perché sono più di 42 km, possiamo ben capire la mole di lavoro che si vuole controllare. Muscoli idratati, carboidrati, muscoli pieni di carboidrati. anche qua abbiamo parlato, andatevi a ribeccare il video, anche se la qualità è diversa ragazzi, il contenuto è fantastico. Quindi ragazzi, ecco qua, l'importanza dell'acqua e il motello. Sì, noi come abbiamo detto, siamo fatti al 60%, quindi sappiamo quali sono le soluzioni principali, ovviamente ce ne sono una miriade, perché non è possibile diventare qui. Però quelle principali le abbiamo detto, abbiamo detto, che fa dimagrire, no, però aiuta. Ovviamente ci devo precisare una cosa, che aiuta a dimagrire, ma se è l'unico componente liquido, quindi su un succo di frutta, bevande gassate, birra, alcoli, quelle vanno completamente eliminate. Se l'acqua viene sostituita a tutte queste componenti, allora aiuta a dimagrire. Io qua vorremmo dire, un piccolo approfondimento, molte volte ci sono persone che vengono da me in palestra, mi dicono sai, non sto seguendo una vera propria dieta, però sto bevendo di più, mi ha dato una domanda, che cosa sto bevendo di più? Perché se ti bevi da una cosa, la Pepsi, la Sprat e quant'altro, beviti bello! Mi sto favore! Sto bevendo di più, ho eliminato tutte le sostanze, tutte le bibite gassate e alcoliche e mi sento già meglio, mi sento più sgonfio. Allora, qua la domanda, cioè non la domanda, comunque il discorso è presto fatto. Naturalmente, in questo caso, tu sentendo sgonfio, anche se non hai cambiato di granché le abitudini alimentari, ma tu hai tolto una componente che è quella, a parte dei lieviti, per esempio contenuti nella birra, quella dell'alcol, che comunque fa parte di carburità, di zucchero e quant'altro, che vado ad aumentare il fabbisogno calorico, cioè il giornaliero, non c'è il fabbisogno, ma l'apporto calorico, chiedo scusa, ecco l'importanza di avere un nutrizionista, perché pure io sbaglio, sono persone umani, e ti consegna sostituendo con una bevanda che di base non ha, non ha lievito, non ha grassi, non ha calorie, quindi, anzi fa bene, è vitale, non ha gas comunque, perché non è gassata, anche se qua, sono anche sulla pagassata, ad esempio, qui c'è un occhio, ma c'è un'altra cosa importante da dire, che combattono la protezione idrica, e quindi è fondamentale anche per questo processo, per quelle famose persone fissate, vanno già con donne, e quindi cellulite, non varie richieste, non varie richieste, non varie richieste, non varie richieste, ma c'è come un punto di partenza, è incrementare la quantità di acqua. naturalmente, anche con una dieta dietro, ben moderata, e l'allenamento, questi sono i criteri. Comunque, sulla scheda per le donne, con cellulite, ne parleremo, ne parleremo, anche perché è molto interessante, posso anche parlare con lui, se non parlerò da solo, ragazzi, ho già fatto la scheda per diabetici, per Tensit, non alimentare, attenzione, non alimentare, perché ho sempre detto che bisogna, ho terminamente spiegato, cioè, la differenza di un diabetico, che comunque bisogna andare a perdere, a livello fisiologico, quindi a livello urbatico, e quindi come si deve fare, e a livello di libertezza, perché giustamente sono dei valori, che devono rimanere nella norma, così, per la volontà, questa è una piccola discussione per noi, non so se la taglio, molto probabilmente la lascerò, perché vi invito anche ad andare a toccare i piatti di video. Beh, quello che ci trovo a noi, in questo video, era indicarvi cosa, cos'è l'acqua, ovviamente le sue funzioni, almeno quelle più famose, ripeto, con i posti numerosissimi, che non è possibile, per spiegare tutto, è praticamente impossibile, e magari nell'ambito sportivo, ci prendiamo a dire cosa, qual è il suo ruolo, ecco. io, un'ultima parentesi che voglio fare, io ho fatto anche dei corsi, per personal trainer, per arrivare, vabbè, chi segue i corsi Xen, sa che c'è l'ultimo del maestro di bodybuilding, ecco, io ho preso anche questo tipo di corso, e c'era una sezione, una sezione giustamente del programma, che parlava del carico e scarico di carboidrati e acqua, però, attenzione, attenzione, perché, e qua ce l'ho appunto, ne approfitto, questo è un piccolo, non ce l'avamo programmato, però, molte volte si dice, allora, che di sottogara, carichi sodio, scarichi l'acqua, carichi poi, insomma, tante cose, però, quello che fanno i bodybuilder, per andare sul palco, è una componente minima, ok, loro fanno questo giochino, per 3-4 giorni pre gara, tutto quello che voi vedete, è un programma di allenamento, di alimentazione, un programma, sì, studiando nei minimi dettagli, che sanno che, loro arriveranno a quella settimana, con un tot percentuale di acqua, tot percentuale di grasso, e muscolare, naturalmente, tutte, quello che può capitare, con un infortunio, bisogna prendere dei medicinali, delle cose, queste non possono essere calcolate, perché, assolutamente non può, sono dei discorsi a fatti, sono delle cose che tu non puoi calcolare, però, di base, vengono calcolate per questo, quindi, quando loro andranno a scaricare i carboidrati, per poi andare a ricaricare il giorno prima della gara, a scaricare il sodo, per poi andare a ricaricare prima, scaricare l'acqua, nei giorni pre, e poi il giorno della gara, scaricare completamente, perché, solo semplicemente, una questione di immagine, che li porta sul palco, loro fanno le pose, vincono, perdono, a seconda la Giulia, dopodichè, devono per forza, rientrare con i macro, si, perché, quindi, è tutto programmato, tutto organizzato, a quel fine, a quel fine, quindi, quando sentite parlare, ah ma io un caricato scaricato, quello e quell'altro, un carico scarico di carboidrati, attenzione, attenzione, ragazzi, io non bevo, perché se no, sto mangiando tutti i carboidrati, attenzione ragazzi, se voi sentite parlare, i bodybuilder, loro faranno tutto, perfetto, ma dietro c'è anche altro, c'è anche altro, non tutti, naturalmente ragazzi, i bodybuilder, esiste, sono pochi, però esiste, però ragazzi, attenzione, quando sentite parlare, questi, questi fantomatici, sì, carico scarico, l'acqua sodio, quello e quell'altro, perché, loro sono seguiti da, tantissime persone, dagli sponsor, quindi devono portare avanti, quindi devono mantenere una certa linea, una certa forma, per i momenti, molto lunghi, quindi, attenzione, anche perché su Instagram e Facebook, io ho parlato appunto delle schede, sì, ho parlato appunto delle schede, delle cose farloche, che bisogna che si vada in giro, ovviamente, delle cose in futuro. Ottimi contenuti, da seguire assolutamente, perché c'è, c'è questo, c'è questa storia qui, molti ti fanno un'idea sbagliata, di quello che c'è, di quello che è l'apparenza, ma poi, l'apparenza in grado, non ci si può dire. Ok, e perché, appunto, perché per esempio, ah ma io ho visto Facebook, questo esercizio, ho visto su Instagram, questo esercizio, ho visto questo che fa così, ma tu ti sei chiesto se tu lo puoi fare, se lo riesci a fare, se due meccanicamente siete simili, se a livello organico siete simili, se tu fai questo, magari ti porta più un problema che il resto, se c'è squilibri della colonna, se appoggi bene il piede, se ti mangi quello che mangia lui, se fai la stessa vita, magari sei un muratore, un garpediere, che cosa vivi la sera, un allenamento di un'ora ti vuoi fare, ti vuoi rilassare, quello non fa un cazzo tutto il giorno, perché tuttavia sta su Instagram, si fa il bombaggio e quant'altro, se vuoi lo scarica e carica, se si prende gli anabolizzati, se si fa di testosterone, se si fa di insulio, una miriade di fattori, ci sono, tantissimi fattori, raga, l'allenamento è singolo, l'alimentazione è singola, ci sono linee guida, che devono essere prese in considerazione, da persone professioniste del settore, alimentazione, biomeccanica, posturologi, quindi ragazzi, non andate, va adattata, proprio lo specialista, che adatta, ci sono delle linee guida, che lo specialista, adatta al singolo individuo, poi uno ha le sue esigenze, quindi, non fatevi ingannare, ecco, attenzione, attenzione, quando seguite queste persone, e informatemi, informatemi, stessa cosa, stessa cosa per l'argomento, che abbiamo trattato, anche in questo video, che è l'acqua, soprattutto, non fatevi ingannare, dalle voci, di corridoio, mandate a comunicare, tutti i processi, che riduce, nell'organismo, tutti i benefici che ha, nello sport, e poi, e poi, solo una volta che conoscete, magari siete affidati a uno specialista, potrete, potrete dire, quanta acqua veramente bere, quanta, quanta acqua assumere, per una disciplina, per esempio, Giuseppe, nella sua disciplina, ne assumerà un tot, e l'atleta, e così via, ci sono degli standard, equivalenti per tutti, ma poi, lo specialista, è lì, che si adatta al singolo, quindi, questo è il succo della questione. Quindi ragazzi, io come al solito, vi ricordo sempre, che sono dei video, fatti per informare, io spero che questo, possa dare un input, per conoscere, per studiare qualcosa di più, anche su voi stessi, perché fa parte del vostro benessere, fondamentalmente. Quindi ragazzi, questo video finisce qua, anche questo, è andato più sulle lunghe, non so se lo taglio, oppure no, è estretamente collegato, con tutto il materiale, che abbiamo toccato, sia sui micro nutrienti, ma sia quindi, a livello nutrizionale, ma anche a livello, di allenamento. Io vi dico sempre, a lasciare, dei commenti, o a contentare, a contattarmi, sulle pagine, Instagram e Facebook, se avete qualsiasi tipo di dubbi, perplessità, volete fare delle domande, volete dire la vostra, fatta, naturalmente ragazzi, sempre come, non insultate, perché se no, vi bocchiamo, detto proprio, diretto. Quindi ragazzi, io invito sempre, a lasciare, un like, al video, oppure, iscrivervi al canale, e seguirci, sulle nostre pagine, Instagram, buon allenamento, e buon appetito, da InSpot. Ciao!